In primo luogo mi devo scusare perché io mi occupo di filosofia e non di teologia, quindi dell'ancella, come direbbero i miei autori della teologia. In secondo luogo mi devo scusare perché tra i filosofi, ormai gli storici della filosofia sono quelli più emarginati, quindi sono doppiamente in difficoltà di fronte a voi. Spero comunque di offrire un contributo utile alla discussione molto interessante di questi giorni. Negli ultimi decenni gli studi sul pensiero di Alberto Magno hanno conosciuto un notevole sviluppo. Al lavoro editoriale condotto dall'Albertus Magnus Institute di Bonn si sono infatti affiancati numerosi progetti di ricerca finalizzati all'approfondimento delle molteplici sfaccettature della riflessione albertina. In un certo senso si può affermare che gli scritti di Alberto Magno stanno conoscendo quel fenomeno di renaissance di cui godettero le opere di Tommaso d'Aquino, suo discepolo, nel secolo scorso. Tale fortuna è indubbiamente legata alla poliedricità, all'ecletticità del personaggio, che pur qualificandosi come teologo, non esitava a vestire i panni del geologo, del biologo e dell'astrologo. Tuttavia, il comprensibile fascino della comunità scientifica, soprattutto filosofica, per questa curiosità onnivora di Alberto Magno, rischia, a mio parere, di adombrare non soltanto la sua attività teologica, ma soprattutto quella esegetica e pastorale. Non mancano infatti saggi, anche molto recenti, che si concentrano sui lavori teologici di Alberto, mentre è decisamente più difficile imbattersi in studi sistematici, sui suoi commenti alle scritture e ancora di più sulle sue omelie, di cui peraltro non esiste ancora un vero e proprio catalogo. Tuttavia, Alberto Magno è un frate predicatore e, come tale, dedica molto tempo ed energie all'esegesi dei testi biblici e alla divulgazione delle sue riflessioni a riguardo. Peraltro, la stima che egli gode presso la corte pontificia lo rende a tutti gli effetti un uomo di chiesa. Papa Alessandro IV insiste per la sua nomina a vescovo di Ratisbona, mentre Papa Urbano IV, sollevandolo da questo onere, che peraltro Alberto aveva mal sopportato, lo coinvolge nella predicazione a sostegno delle crociate. È certamente alla luce di questa fitta relazione con il papato che Alberto matura alcune riflessioni ecclesiologiche. Non si tratta però di trattazioni sistematiche, ma di accenni per immagini ricavate per lo più dallo studio della Sacra Scrittura. L'obiettivo di questo contributo è proprio quello di fare luce su due differenti immagini ecclesiologiche che emergono dagli scritti di Alberto Magno per valutarne, in conclusione, le possibili relazioni. Nei Sermones de Sancto Augustino, prendendo le mosse dall'affermazione evangelica non potes civitas abscondi supra montem posita, Alberto presenta una visione in un certo senso ottimistica dell'istituzione ecclesiastica, una civitas fidelium esposta e ben strutturata e difesa da solide mura. I toni, invece, diventano decisamente più cupi nel commento al Vangelo di Matteo e nell'exposizio Super Evangelium Luke Luce, quando la profezia Erunt signa in sole, in luna et in stellis viene interpretata come un'anticipazione della Chiesa futura, ridotta ad una piccola comunità di credenti abbandonata da Papa, vescovi e religiosi. Vediamo il primo punto, quindi il primo passaggio che potremmo intitolare appunto non potes civitas abscondi supra montem posita, pietre vive a sostegno della Chiesa. I Sermones de Sancto Agustino sono sette omelie che Alberto tiene ad Augsburg nell'agosto del 1257, in occasione appunto, 28 agosto, della festa di Sant'Agostino. Come anticipato, si tratta di una lunga esegesi, quindi sette omelie, una lunga esegesi, di un passo del discorso della montagna, così come viene riportato nel Vangelo di Matteo. Gesù si rivolge ai suoi discepoli, Lux Mundi, paragonando quella che sarà la loro comunità, la loro comunità, ad una civitas supra montem posita. L'argomento, suggerito dal calendario liturgico, è facilmente riconducibile alla riflessione agostiniana sulla Civitas Dei. Tuttavia, il riferimento principale dell'analisi albertina sembra piuttosto essere, come spesso accade, la filosofia aristotelica. Sebbene infatti non fosse ancora disponibile una traduzione latina della politica di Aristotele, Guglielmo di Morbe che ne appronterà una versione tra il 66 e il 70, e Alberto la commenterà, ma qui non siamo ancora in quegli anni, nonostante questo il teologo dominicano associa modelli biblici a concetti politici ereditati dall'Etica Nicomachea, opera che invece ben conosceva, avendone redatto un primo commento tra il 50 e il 52, appena era arrivato a fondare lo Studium Generale a Colonia. Non sorprende dunque che dietro al vasto materiale esegetico che sta alla base di questi sermones e alla riflessione teologica sulla missione della Chiesa, si trovino anche elementi per una vera e propria teoria dello stato perfetto. Avendo tuttavia affrontato altrove questo particolare uso delle fonti filosofiche, nel 22 in un volume delle dissertazioni storiche, curato da padre William Dossi, avevo offerto un contributo a riguardo, quest'oggi mi limito ad esaminare solo un esempio circoscritto dell'immagine albertina di Civitas Fidelium, vale a dire la nozione di mura, che è un argomento centrale di questi sermoni. D'altra parte un requisito fondamentale per la difesa e la sopravvivenza di una Civitas, pensiamo a una Civitas medievale, sono le sue mura, le sue fortificazioni. Stando dunque alla metafora ecclesiologica, si tratta di stabilire, secondo Alberto, quali siano le mura della Chiesa. Alberto invita anzitutto a distinguere, come è abbastanza intuitivo anche per noi, il significato letterale da quello allegorico. Mentre le mura di una città sono propriamente costituite da mattoni e argilla, la Chiesa è circondata di pietre vive. Ist est murus circundams nos et defendens, murus inquam non de mortuis factus lapidibus, sed de vivis. Una città fortificata, con pesanti muri di pietra, de lapidibus in luto fixis, resta dunque vulnerabile. La sua protezione, infatti, è costituita da elementi senza vita, de mortuis lapidibus fabricatus. Presto tardi le mura morte crolleranno, e la Civitas sarà conquistata. Al contrario, vivus ergo murus, et melhor sunt cives quam mortus, qui a sine isto non vale aliquid sicut patet. Ita dico murus ecclesie factus est, non de lapidibus in luto fixis, sed de cielo suntis i lapides vivi sunt. I cives, in quanto lapides vivi, possono vegliare sull'Ecclesia giorno e notte. Peraltro, aggiunge Alberto, essi non sono soli a svolgere questo compito. Cristo stesso è infatti un muro che si erige in difesa della sua Ecclesia e dei suoi cives, affinché anch'essi possano divenire a loro volta fortificazione gli uni per gli altri. Tunchenim, sicut Christus omnibus suis, fuit quasi murus, ita et ipsi alis murus sunt. Infine, un ulteriore aspetto che emerge nell'allegoria proposta da Alberto Magno nei Sermones de Sant'Augustino è la comunione tra Ecclesia viventium et Ecclesia sanctorum. Come Cristo, anche i Santi sono mura che offrono riparo al popolo, cioè ai fedeli, e proteggono la civitas dai nemici. Muri sunt doctores boni qui cingunt populum et defendum euma bostibus. Dietro dunque ad un semplice elemento architettonico che caratterizza ogni civitas medievale, Alberto ritrova tre elementi essenziali per la civitas fidelium e di conseguenza per della sua ecclesiologia, mi verrebbe da dire. Essa è anzitutto fortificata e difesa da Cristo, quindi dai doctores boni, infine anche dai fedeli lapides vivi che ne seguono l'insegnamento. Sono infatti sentinelle decisamente più affidabile delle mura di pietra. Tale metafora, basata senz'altro su un'esegesi piuttosto consueta e consolidata nella tradizione della Chiesa, viene riproposta da Alberto anche in opere successive. Nell'Exposizio Superluce Evangelium, ad esempio, e gli riporta l'antifona tratta dal libro del profeta Esaia Urbs Fortitudinis Nostres Sion, proponendo un'interpretazione sostanzialmente in linea con quanto aveva sostenuto nei sermones. In questa circostanza Dio è presentato come un capomastro o un architetto che dota la sua civitas di mura di mura e fortificazioni, murus et antemurale. Le pietre di cui essa è costituita sono ancora una volta i cittadini fideles e i nobili sancti. Tuttavia, perché le pietre delle mura possano restare unite tra loro, è indispensabile un cemento particolare, vale a dire, i precetti e i consigli evangelici vissuti. Si parla di per caritas glutinum e precepta meritocque virtutum. In effetti, se notate, qualche elemento di novità rispetto ai sermones del Santo Augustino può essere messo in luce. In questa rilettura delle mura della Chiesa non compare più Cristo come elemento di fortificazione. Ma io credo che questo sia semplicemente dovuto al fatto che nella metafora Alberto aveva prima parlato di Dio come architetto e capomastro ed era verosimilmente, però qui mi rimetto ai teologi, sono un addetto ai lavori, probabilmente diventava complicato poi attribuire a Cristo un compito strumentale. Detto questo, quello che è interessante notare è che la sua funzione, la funzione di Cristo a sostegno della Chiesa non viene meno ma è svolta piuttosto dagli insegnamenti, dalle virtutes evangeliche e dalla caritas. che questo elemento, questa espressione proprio il glutinum funziona da collante cemento perché le pietre vive possano stare assieme. Vengo alla seconda immagine di Chiesa di Alberto e mi ricollego a quanto ho appena detto a proposito del collante del cemento che unisce assieme le lapides vivi. quindi secondo parte dell'intervento intitolata Eronsigna in sole in luna et in stellis una visione scatologica della Chiesa. L'importanza degli insegnamenti evangelici come collante per l'unità delle pietre vive costituisce il nucleo centrale anche della seconda immagine ecclesologica che Alberto presenta nei suoi scritti e in particolare proprio nell'exposizio Superluce Evangelium. Il quadro esegetico di riferimento però è cambiato. Alberto Magno infatti non sta più commentando il discorso della montagna ma la grande profezia sulla distruzione del Tempio di Gerusalemme narrata pur con sfumature differenti da tutti i Vangeli Sinottici. Secondo il teologo Domenicano che in questo riprende tanto la glossa ordinaria quanto le postille del suo confratello Ugo di Saint Cher Gesù non si sta limitando a preannunciare gli avvenimenti catastrofici che si verificheranno nel giro di pochi decenni a causa dell'intervento militare di Tito a Gerusalemme ma il destino della Chiesa alla fine dei tempi. Alberto presenta per la prima volta un'esegesi ecclesiologica di questa grande profezia commentando il Vangelo di Matteo lo fa tra il 57 il 60 io mi rifaccio un po' alla cronologia che è stata approntata dall'Albertus Magnus Institut in un'opera del 2011 nella Zeitafel c'è una cronologia ipotetica quindi questo commento al Vangelo di Matteo è stato scritto presso poco negli stessi anni in cui Alberto aveva tenuto i sermoni ad Augsburg o poco dopo in tale circostanza quindi nel commento a Matteo è evidente che Alberto mette in relazione la consumazio iudee e la consumazio seculi leggo il passo ic incipet tangere signa consumazionis seculi in signis consumazionis iudee quia eadem particulariter presignabant destruccionem iudee relata ad Titum et Elium Adrianum quae universaliter accepta presa in termini universali relata ad Antichristum finem mundi significant e aggiunge tempore autem Antichristi cum confirmabitur potestas eius tunc maxime regnabit in iudee persequens ecclesiam fidelium et tunc oportet ad litteram fugere ad montium speluncas et deserta la chiesa ecclesia fidelium sarà dunque costretta a ritirarsi in luoghi deserti e nascosti sulle montagne ad montium speluncas et deserta non si presenterà più come un'istituzione ben strutturata e organizzata supram montem posita bensì come una piccola comunità nascosta di credenti perseguitati non è tuttavia questa l'unica possibile lettura del fuggere ad montes di cui si parla nella profezia del tempio secondo Alberto infatti tale azione può essere anche letta in termini mistici mystice un movimento ascetico questo fuggire può essere inteso come un movimento ascetico per abbandonare tutti i desideri terreni ed elevarsi alle più alte virtù mi limito solo alle due parti che ho sottolineato quindi non è più un fuggire in senso fisico ma in senso in termini mistici un elevarsi alle virtù più alte ecco mentre l'interpretazione ad litteram sembrava preannunciare la condizione in cui verserà l'intera ecclesia fidelium la lettura mistica riguarda piuttosto il futuro dei consacrati lo dice nella seconda riga dice illi qui confessioni laudis sun dediti sicud clerici et religiosi quindi la lettura mistica sembra più indirizzata ai consacrati alla fine dei tempi i sacerdoti e i religiosi dovranno condurre una vita essenzialmente contemplativa all'interno di una piccola e nascosta comunità di credenti ora qualche anno più tardi nelle narrazioni in marci evangelium se nel commento al vangelo di marco alberto non riprende questo discorso commenta la profezia del tempio ma non riprende questo discorso escatologico o questa relazione tra ecclesiologia ed escatologia mentre l'esegesi del capitolo 21 della già citata exposizio super luce evangelium è una costellazione di profezie ecclesiologiche veramente molto cupe esse riguardano due eventi particolari evocati nel discorso profetico di Gesù la distruzione del tempio e i segni celesti che annunciano tanto la caduta di Gerusalemme sotto Tito quanto la fine dei tempi nel primo caso riprendendo l'immagine ecclesiologica esaminata in precedenza cioè quella della civitas supra montem posita e quindi tutta la metafora delle pietre pietre morte o pietre vive Alberto descrive la distruzione materiale del tempio non relinquetur lapis super lapidem come una profezia chiaramente della futura diaspora dei fedeli e di conseguenza della rovina spirituale della Chiesa hoc spiritualiter magis impletum est in ecclesiis inquibus lapidibus vivis nil remansit nisi ignis infernalis existio incarnis concupiscencia secondo Alberto questa tragica situazione quindi questo non relinquetur lapis super lapidem deriva dal crollo morale di sacerdoti cardinali e vescovi sempre più dediti alla concupiscenza carnis alla concupiscenza oculorum e alla superbia vite cito il passo successivo commentando Deuteronomio 32 22 Alberto fa riferimento a casi di nepotismo no hoc est cum nepotibus quos in ecclesias introducunt e poi aggiunge quando si parla del fuoco che va a bruciare i monti no di cui si parla nel passo nel Deuteronomio hoc est prelatorum cardinalium et episcoporum fundamenta comburet quia fundamentum eorum materia ignis scilicet concupiscenza carnis et concupiscenza oculorum et superbia vite hoc enim fundamentum pice tenacis concupiscentia et sulfuris fetentis perimmundum libidinis confectum coram igne inferni stare non poterit Alberto non va assolutamente per il sottile evidentemente il materiale combustibile prelati cardinali episcopi hanno in sé un materiale combustibile che facilita l'accendersi l'attecchire del fuoco il fatto che il fuoco possa divampare in fondo questo è lo stesso scenario che è prefigurato dalla seconda profezia quella che fa poi da titolo al mio intervento la profezia dei segni celesti che dovrebbero apparire durante la distruzione di Gerusalemme che erano apparsi durante la distruzione di Gerusalemme poi qui ripeto io non sono un esperto ma questa espressione è a sua volta una citazione da Isaia se è corretto quindi nel Vangelo c'è un riferimento nella profezia c'è una citazione a Isaia e come nei casi precedenti questo è interessante per Alberto si tratta di segni senza tempo non sono segni limitati all'imminente distruzione del Tempio di Gerusalemme che ci sarebbe stata da lì a qualche decennio nel caso specifico della profezia di Gesù non riflettono quindi un singolo evento di fatto già concluso cioè la caduta di Gerusalemme e la distruzione del Tempio ma per Alberto predicono anche il futuro della Chiesa quindi possono essere lette come profezie atemporali da un certo punto di vista in particolare preannunciano ciò che accadrà alle gerarchie ecclesiastiche sole ai laici l'una quindi qui se la prende anche coi laici è troppo facile io da laico come dire fare delle invettive su clerici se la prende anche coi laici e gli ordini religiosi quindi non risparmia nemmeno gli ordini religiosi che sono le stelle quindi sole gerarchie ecclesiastiche laici la luna e le stelle sono gli ordini religiosi quello che avviene nel sole nella luna e nelle stelle è una preannunciare quello che accadrà alle gerarchie ecclesiastiche ai laici ai fedeli laici e agli ordini religiosi secondo Alberto quando Gesù annuncia i signa in sole e lì probabilmente Alberto che fa venire fuori tutta la sua anima di astrologo infatti se uno andasse a prendere per integralmente il passo dove Alberto commenta i signa si lascia anche andare a delle considerazioni di tipo astrologico fa riferimento a delle eclissi solari Alberto era rimasto molto colpito da tutta la teoria del grande anno che era stata recepita dalla tradizione greca quindi delle catastrofi imminenti dell'anno del ritorno c'è tutto dietro anche tutto un discorso astrologico che io non sto qui a approfondire che è quello che di solito cattura di più l'attenzione diciamo in ambito della comunità scientifica su Alberto Magno Alberto Magno astrologo però qui non è il compito di divagare su questo fa riferimento all'eclissi solari ma evidentemente questi eventi prefigurano ancora una volta il declino morale delle autorità papali e episcopali quindi l'eclissi solare del sole si riferisce a quello e scrive Alberto sol enim obscuratur quando illiquilluminatores orbis terre deberentesse obscurantur sicut papa cardinales archiepiscopi et episcopi notate che qui viene annoverato anche il papa non soltanto cardinales et episcopi e aggiunge ec enim luminaria tenebrosiora iam sunt quam alia tenebrosa tum per ignoranziam tum etiam per nigram vita e ancora ci sono espressioni fortissime Alberto dice retrocessio autem est qui a reversi ad vomitum et ad vitam laicalem l'accusa alle gerarchie ecclesiastiche di a indugere e ritiegare sulla vita laicale oc modo totus retrocessit clerus qui sol mundi fuit Alberto dipinge quindi adesso di là io ho fatto anche dell'ironia però dipinge effettivamente un quadro drammatico della futura classe dirigente della chiesa clerici erecti e toziosi in altitudine ambizionis et in superbi ambizionis reversi ad vomitum la luna e quindi ce n'è anche per i laici che simboleggia i laici non può che subire astronomicamente interessante il discorso di Alberto siccome la luna riflette il sole evidentemente se il sole si eclissa e inclina induge nel nel declino morale insomma subisce le conseguenze di questa eclisi solare nella lettura spirituale di Alberto ciò significa che le comunità laiche scritto molto in piccolo dovete un po' credermi sulla fiducia poi sarà tutto a disposizione nel testo chiaramente le comunità laiche saranno completamente soggiogate ai piaceri terreni a causa del cattivo esempio di sacerdoti e vescovi ed ideo luna hoc est laicorum congregatio eclipsim patitur sui luminis et conversa est in sanguinem hoc est ad carnalitatis amorem qui è interessante che poi Alberto declina anche in che cosa voglia dire il declino della vita laicale e lo fa facendo riferimento a tre caratteristiche che segnano la fine il crollo morale dei laici che sono ciò che avviene in domo a casa la crisi delle relazioni familiari ciò che avviene in civilitate la crisi delle relazioni civile e la partecipazione ai sacramenti la disaffezione rispetto all'esercizium sacramentorum leggo una enim pars laici populi est dispensatio rei familiari sindomo seconda congruenzia civitatis in civilitate e terzia est esercizium sacramentorum que pars manifeste percussa est quia de sacramentis nil curant tale decadenza morale infine colpisce anche gli ordini religiosi le stelle quelle che dovrebbero essere le stelle nel firmamento che sono appunto simboleggiati dalle stelle che cosa comporta il crollo degli ordini religiosi lab renunziatio ab renunziatio paupertatis rompendo il voto di povertà non sono più una fonte di luce ma diventano stelle cadenti ancora una volta Alberto mette al servizio dell'esegesi anche le sue competenze astronomiche stelle stelle autem sunt religiosi qui sicud stelle in cielo micantes ita deberem stare in celesti conversazione abent autem tres partes silicet votum votum obedientiae votum castitatis et votum paupertatis sed ab renunziatio paupertatis manifeste percussa est qui affere omnes ad terrenorum amorem etiam plusquam seculares sunt inclinati ancora una volta la concupiscenza carnes gli amori terreni che li fanno precipitare nella condizione secolare come nel commento al Vangelo di Matteo questa situazione drammatica innesca la ricerca di un nuovo modello di chiesa cioè Alberto non si limita alla pars destruens ma ancora una volta dà un accenno a un nuovo modello di chiesa ancora una volta sembra riferirsi alla chiesa futura esattamente come aveva fatto nel Vangelo di Matteo come una piccola e nascosta comunità di credenti interessante il passo del 21 19 dove Alberto scrive sapientia enim in verbis et pazientia in verberibus omnia vincunt la sapienza nella parola nella scrittura e la ricerca della sapienza nella scrittura e la pazienza in verberibus la sopportazione del martirio vincono tutte le cose que due ale sono come due ali que due ale data sunt mulieri que ecclesiam significat sono come due ali la sapientia en verbis e la pazientia en verberibus con le quali quibus volat la chiesa in desertum la comunitas fidelium volat in desertum ut defendatur ad racone diavolo qui eam persequitur la sapientia en verbis e la pazientia en verberibus sono la via d'uscita perché si possa superare quel declino che è stato descritto prima e volare ancora una volta questo ritirarsi quel fuggere ad monzium in questo caso volat in desertum come se fossero due ali ut defendatur a dracone diabol a causa delle persecuzioni dell'anticristo dracus diabolus la chiesa diventa una piccola comunità esiliata nel deserto qui i pochi fedeli rimasti cercano la sapienza sapienza in verbis e sopportano il martirio pazientia in verberibus anche se ci sono pochi elementi per datare questo commento al vangelo di luca è comunque certo che alberto lo scrisse dopo la sua elezione a vescovo di ratisbona forse utilizza il discorso escatologico senza forse però è bene essere prudenti come critica alla chiesa del suo tempo del resto la combinazione di avvertimenti per il tempo presente e previsioni per il futuro è una caratteristica tipica delle profezie le stesse previsioni di Gesù sull'imminente caduta di Gerusalemme prendono spunto da una severa condanna degli uomini del suo tempo in altre parole meditando sul vangelo di luca e osservando i segni del suo tempo alberto critica la corruzione della chiesa sua contemporanea e allo stesso tempo ne prefigura il futuro conclusione si tratta di due immagini ecclesiologiche alternative la prima quella più ottimista e quella escatologica invece più pessimista ci restituiscono un'evoluzione nel pensiero albertino la mia opinione è che probabilmente non è così per quanto l'esposizio super luce sia stata scritta qualche anno più tardi rispetto ai sermones del santo augustino è piuttosto evidente che le due visioni sono piuttosto complementari se nei sermones la difesa della civitas ecclesia è affidata a pietre vive ciò è dovuto alla persuasione che esse siano tenute assieme dal cemento della caritas e dalle virtutes evangeliche è evidente che questo è un modello ideale è un modello ideale che si scontra costantemente con la realtà dei fatti che probabilmente Alberto aveva anche avuto modo di toccare con mano nel momento in cui i vizi tutta la concupiscenza di cui si parla in quei brani durissimi contro le gerarchie contro gli ordini religiosi contro i laici ecco nel momento in cui i vizi soppiantano le virtù la civitas crolla ai pochi fedeli rimasti non resta che fuggire nel deserto e forse magari lo dico con un po' di retorica tornare alle origini a ben guardare questa tensione tra ecclesiologia politica cioè della polis perché Alberto conosceva qual era la riflessione sulla polis classica e un'ecclesiologia escatologica non può effettivamente essere considerato un tratto esclusivo della riflessione albertina forse è piuttosto una condizione permanente ma io su questo sospendo il giudizio riconoscendo i limiti in partenza quindi lascio ai teologi verificare se questa tensione è una tensione permanente vi ringrazio di un'ecclesiologia di un'ecclesiologia